musica 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 ciao a dire che siamo di roba oggi ragazzi siamo in video oggi ragazzi siamo tornati con un nuovissimo video oggi ragazzi come leggete dal titolo siamo qua ritornati su Fortnite porca puttana oggi ragazzi siamo in un video molto particolare siamo esattamente su vittoria reale con un solo con il oggi non so parlare ragazzi vittoria reale con solo un pompa quindi ragazzi andiamo a fare delle partite solo con il pompa sarà molto difficile ma prima di iniziare il video dovete iscrivervi al canale e lasciare un bel like per supportare questo video e inoltre seguitemi anche su instagram riccardo trattino basso e ragazzi andiamo su con il video vabbè dove cazzo dove cazzo in una casa sono atterrato qua però vabbè ragazzi tralasciando il mio singhiozzo che ce lo da un bordello di tempo bene senza trovare un pompa ragazzi eccolo un pompa aspetta le cure no vabbè le bende ragazzi le posso prendere le cure quindi non iniziate a dire eh ma tu usi pure le cure ragazzi le cure valgono non spessare dai vediamo intanto mi full qua ok 60 di scuro dai allora speriamo di vincerla con solo io con un pompa ragazzi mi dico è stra difficile ok la c'è un'altra pompa i scendini si li prendo un attimo oddio eh già mi spavano un lana vabbè si 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 pompe vabbè vabbè non è scosso vabbè ok vabbè io 22 vai eh vabbè adesso ci sono un altro dov'è dov'è vabbè ovviamente i lama li posso prendere i lama no vabbè ragazzi no vabbè no vabbè no raga i lama forse non li posso prendere no i lama raga non li prende i lama ragazzi non vanno madonna ragazzi lo stavo uccidendo se lo prendete in testa questo qua era morto oppure se aveva un tattico oppure era morto però dai ragazzi stiamo partendo bene vediamo com'è che ragazzo non andò a scogliere scocese scocese questo qua porca proie questo nome non lo so dire ma no allora speriamo di trovare un tattico perché un tattico ragazzi sapete che io uccido tutti andiamo alla partita madonna che ora qua vediamo un pompa un pompa un pompa tattico grande spacco tutti spacco famiglia ammazzo famiglia non so sarà così un altro tattico ragazzi qui è barbaro d'urso che vi parla ma che c'è da barbaro d'urso prendiamo sti munizioni va una pistolina leggendaria mi mancherai pistolina leggendaria altre pompa vabbè oggi stiamo trovando tanti pompa oh c'è una c'è una c'è una c'è una qua sotto mi fa e infatti è qua non so dov'è regà eccolo qua ci vado con il tattico perché il tattico ragazzi è il mio amore poi ci vado con questo madonna madonna regà dopo il pompa dopo il pompa anche se non c'è proprio e giù dove scappi dove scappi urido figliati eh dove dove pensi di scappare zio tu sei tu sei mio tu sei mio zio tu sei mio oh che cazzo ce l'ho un altro ma succhiatemi tutto il cazzo madonna ragazzi io sono un pro player continuiamo a giocare ma comunque ragazzi a voi sembra facile vincerlo solo con un pompa ma ragazzi non è non è non è facile è molto difficile quindi ragazzi vinco la partita con un con solo un con solo dei pompa è veramente una botta di cuore ragazzi sto pensando se trovo il pompa leggendario c'è tanta roba regà vado dove c'è fostito ma io allora prendo sto motocazzo un attimo mi butto qua ben bene la casa la casa il camper ma no regà oggi ve l'ho detto non so parlare non ho detto perché vorrei prendere questa cassa leggendaria ma di cosa sono? dammi uno spazzo uno spazzo uno spazzo che ho detto uno vabbè intanto mi faccio il suo scildone va non mi sono accorto che me ne stavo andando nella tempesta e qua c'è uno mamma bucchina oddio questo è forte ragazzi non so perché ma questo è forte oh cazzo la sei guardate ti guardate la sei eh dove non cazzo la mettiamo noi? eh? vabbè pure il bianco no vabbè ragazzi no vabbè lo sto uccidendo ragà ma non ci credo 42 di vita ragà 42 di vita ma come cazzo ci fa? no vabbè ma no mi ce ne ha preso più in testa mi ha preso in testa questo coltattico era pure bianco era pure bot va bene ok secondo me questo trailer dava 24 ore 24 ore sul forte mi diceva vabbè ragazzi se il video finisce qua se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per supportare questo video per supportare questa merda e seguitemi anche su instagram riccardo a 3tino basso direttamente a 6 ragazzi grazie per aver visto questo video noi ci vediamo ad un prossimo video di una prossima live e ciao ragazzi e ne vediamo ciao ragazzi ciao ciao ciao